Le radici sono comuni e la terra in cui affondano è quell'Europa dove oggi rispuntano divisioni, muri e frontiere. La seconda festa dell'Euregio, celebrata a Pergine a conclusione del biennio di presidenza Trentina, ha riportato al centro il tema del rafforzamento della collaborazione trasfrontaliera messa a dura prova dalla crisi dei migranti, con i rapporti tra Italia e Austria che si sono fatti più tesi e difficili. Lo sforzo per una posizione comune, hanno detto i tre presidenti, ha stimolato il lavoro degli stati nazionali. Dopo i discorsi delle autorità, spazio alla festa con musica, gastronomia, sport e folclore, a cominciare dal raduno delle bande, delle compagnie Schützen e dei tre territori che hanno sfilato per le vie del centro. Che cosa intendiamo quando parliamo di Euregio? Euregio secondo me è un'unione di tre popoli, ladini tedeschi italiani, che si sono messi insieme per unirsi, sì ma anche a livello economico e sociale, in modo da poter unire un po' le tre realtà. Come sta andando quest'unione? Ma non è che la vedo molto benissimo, sto già dal punto di vista, però diciamo che la volontà ce la mettono. Mi sembra una scatola vuota perché non c'è niente di decisamente importante, insomma, per intanto, però sta festa così è già una bella occasione per ritrovarci. La definizione per me l'ha concepito come l'unione Trentino-Alto Adige e Nord Tirolo. Vecchio Tirolo, una volta c'era il Tirolo italiano e c'era il Tirolo tedesco, insomma, e tutti andavano d'accordo. La Rio dei Migranti è stata gestita non in maniera ottimale, a mio giudizio, cioè l'accoglienza va fatta. Infatti il Tirolo è una tradizione in questo senso, perché essendo un corridoio di passaggio fra le due pianure Padana e Bavarese, ovviamente, c'è una lunga tradizione nel fatto di ospitalità e di accoglienza. Il problema sta alla base, da chi l'ha gestita. Nel menù della giornata anche ingredienti turistici come le visite guidate, il castello di Pergine e bici Eureggio, la possibilità di effettuare brevi escursioni ciclistiche sul territorio dell'Alta Val Sugana. Nel pomeriggio spazio alla musica con i giovani talenti della piattaforma musicale Upload Sounds, il concerto dei Bastard Sons of Dioniso e l'esibizione al Teatro Comunale dell'Orchestra Giovanile di Fiati dell'Euregio. Da ottobre, come detto, la presidenza passa all'Alto Adige. Traffico trasfrontaliero e concessione A22 le priorità indicate dal presidente Arno Compatcher.